Il gene che proviene da, non da spesi diversi, da geni diversi, viene da organismi molto lontani da questo filogenetico. Ecco, la genetica invece è una soluzione più vicina, è una genetica diciamo quasi tradizionale, consueta, nel senso che noi, chi farà queste operazioni, metterà all'interno delle piante, delle viti in questo momento, o la vita svenifera, dei geni che vengono da, non solamente da spesi diversi, ma addirittura della stessa spesi. La novità è questa, qualche anno fa il mio gruppo di Milano ha trovato in Caucaso delle viti europee, vita svenifera, resistente alle malattie. Non c'è sangue americano, non c'è sangue asiatico, sono viti che si sono evolute in un ambiente, diciamo, culturale molto diverso dal nostro, perché i caucasici hanno per moltissime generazioni moltificato le loro viti non per talea, ma per sede. La vita svenifera ha un dominio di circa 500 geni per la resistenza, che non ha mai espresso, perché sono mancate tutte le condizioni di co-evoluzione, cioè non sono state evolute assieme al paracidro. Ecco, queste mitiche caucasiche hanno i geni della resistenza come hanno la lice di paria, la lice di ferraghieri. Allora, prendendo questi geni di queste varietà europee, noi possiamo, nelle nostre varietà, inserire geni di vinifera all'interno di vinifera e a rendere così ad estetica. Questa è la genetica, anche se poi è il genoma editing il salto per sculturare. C'è genetica, è il genoma editing, è la possibilità di tagliare dei pezzi di DNA che non funzionano, che sono delle pressioni dell'espressione, e di inserire dentro qualcosa. Insomma, è come una tonsillectomia preventiva in qualche modo. È come una mutazione, è come un grome. Cioè il grome, in effetti, è un individuo che ha avuto una modifica sul gene, quello naturale, e noi facciamo la stessa cosa in modo artificiale. Non si introduce nulla, si toglie solo il pezzo. Allora, se questa cosa dovesse funzionare sarebbe una rivoluzione per unicata. Funziona, perché ci sono già esempi, ci sono già piante, non si può dire, ma diciamo che hanno usato i pezzi di DNA. E quindi, perché per la biologia sostenibile? Perché questo fornurrà dei materiali che non avrà più bisogno di trattamento. Assolutamente. E questa è una cosa molto importante, da tanti punti di vista. Ci sono molti modi per ottenere questo tipo di risultato. Questo è un modo molto efficace per il futuro. Certo. Il rambo non è tutto. Certo. Grazie.